Daniele, vuoi dire qualcosa al papà del futuro? Sarà una grande testa! Ciao papà, come hai visto il sorpreso che ti siamo fatto? Eh, non vai, scherzo per niente qua, ho visto i betti come ho fatto un casino, manca l'assessore della cultura di Teremo, facciamo una cosa di chissà. Ciao! Buonasera! Siamo qui riuniti per questi 70 anni pieni di swing di LCF, che è stato uno dei, diciamo, dei fari illuminanti della mia carriera musicale e quindi sono molto felice. Ciao Rodolfo! Buonasera! 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 E' tutto chiudo! Ehi, l'autonomia! Ehi, l'autonomia! Ehi, l'autonomia! Sono abituato, scusate, scusate! Stai al buio, quindi... Dai, non sono abituato ad essere ripreso, sono imbrassato! Oddio, potevo fare l'attore, in un certo senso, però... Ehi, l'autonomia! Ehi, l'autonomia! L'autonomia! Ehi, l'autonomia! Ehi, l'autonomia! Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a tutti.